Della Repubblica rivolgerà ora il suo messaggio al Parlamento. Invito i membri dell'Assemblea a prendere il Parlamento. Salve di cannone! Sono 21 colpi a salve, no? Dopo il giuramento. Quel numero 21... C'è una suggestione. ...che ha una sua ritualità. Sentiamo Mattarella. ...della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Signori parlamentari e delegati regionali. Il Parlamento e i rappresentanti delle Regioni è per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea. Nel luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione. vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l'unità della Repubblica. Adempirò il mio dovere, secondo i principi e le norme della Costituzione, a cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento e sette anni trascorsi.